Mi hanno detto che tra poco verrà a trovarci il sindaco della città metropolitana, il sindaco facente funzione di Reggio Calabria. Verrà a trovarci perché ovviamente la questione che noi stiamo sostenendo non vale solo per la Sicilia e i siciliani, ma per tutti e anche i calabresi che hanno la necessità di venire in Sicilia per questioni lavorative, il famoso pendolarismo che viene sconosciuto a Roma. Verrà proprio il dottore Carmelo Versace, sindaco della città metropolitana facente funzione. Nel frattempo siamo in attesa di avere notizie da Roma e mi hanno detto che stamattina ci sarebbe stato un tavolo tecnico. Probabilmente verrà pure Musumeci, noi siamo qui, tanto. Oggi so che si vedono a Catania perché ci sarebbe da ancora definire le loro faide interne. Mi dicono che oggi a Catania c'è questa summit, ci sarà il presidente del Parlamento siciliano, Miciche che incontra i leader di partito, tutti i partiti del centro-destra, non so perché cosa, certamente non si incontrano per venire qui da me, anzi qui da noi. Siamo in attesa che il ministro Speranza faccia, con un colpo di penna, come ha fatto per le isole minori, il proprio dovere, corregga una stortura normativa. Vi posso dire che c'è stato qualche parlamentare messinese che è riuscito a parlare con Speranza e Speranza a quanto pare ha riferito che non se ne parla. Non se ne parla perché? Perché ammetterebbero il loro grave errore.